Buonasera, bentornati a Instant Book, idee e scritture per il futuro. E' ospite con noi quest'oggi Sergio Scarcelli, Sergio Sud. Sergio, tu sei stato già ospite nostro l'anno scorso, quando ci hai raccontato un po' quali sono le tue nuove esperienze imprenditoriali e culturali. Tu sei stato nel corso degli anni uno dei primi ad animare culturalmente la città di Bari e in qualche misura anche a offrire uno spazio non semplicemente espositivo, diciamo così, a dei prodotti che fossero musicali, che fossero teatrali, che fossero di intrattenimento anche sperimentale, mai superficiale, diciamo così, che raccontassero in qualche modo la Puglia. La domanda che io voglio fare a te, che poi è la domanda che pongo agli autori e agli editori che vengono qui, è se tu avverti l'esigenza di raccontare la Puglia, di raccontare la città capoluogo di questa regione, perché sembra essere questa esigenza molto avvertita, talvolta anche molto o malamente assecondata, e quale regione, quale città vuoi che venga raccontata e in quale misura? Io non credo che, io non ho mai avuto la necessità di raccontare la Puglia o comunque di mettere in evidenza la Puglia, se non nella mia storia, un po' quello che ho sempre fatto anche attraverso i luoghi che io non ho mai definito locali, ma piattaforme sociali, in cui la gente si incontra, un po' come le vecchie fabbriche, per più forse c'è un po' di vecchiume in questo, cioè il ricordo delle vecchie fabbriche dove la gente, o delle vecchie cantine dove si incontrava e si raccontava delle esperienze, che però sono le esperienze che appartengono all'uomo, appartengono alla dimensione della terra, che è il pensiero che più mi condivido e mi avvicina, l'idea di stare con gli altri. Diciamo che la cartolina non l'ho mai sopportata, quella che si costruisce per far vedere soltanto le parti belle di una regione, perché la devi vendere un po' in tutto il mondo. Nel momento in cui si parla di globalizzazione, diciamo che la controtendenza è parlare del tuo orticello. Proprio così. La controtendenza è questa, però non si capisce questo viaggiare su queste dimensioni così contraddittorie, così abissari. C'è un'eccessiva localizzazione, talvolta, del dibattito, che vale tanto per i territori quanto poi per i temi. Per esempio, che so, autori, scrittori, che discutono, questa è una fase in cui si discute molto di postmodernità, con forte ritardo rispetto agli Stati Uniti. Che cosa vuol dire questa postmodernità? L'Italia è un paese postmoderno, ci sono delle scritture postmoderne. Oppure musicisti che si interrogano su quello che deve essere, come dire, il genere da seguire. Anche qui con forte ritardo rispetto a un dibattito che era tutto britannico. L'omologo è ragionare su un territorio, non su quelli che sono i problemi in un territorio, ma su cosa promuovere di un territorio. Dimenticando che però quel territorio è la sedimentazione di problemi, soprattutto. Certo, è un po' come per me quando dico scegliamo la birra da vendere in base al target delle persone che poi devono venire. Cioè si ripete queste cose qua un po' in tutte le dimensioni, in tutti gli ambiti. Cioè la formula rimane sempre quella, no? Uscire fuori da questa formula in qualche maniera significa davvero dare spazio a quella creatività che ognuno di noi porta dentro, no? E confrontarsi a 360 gradi su tutte le questioni che riguardano un vivere, come dire, proiettato al bene comune, no? Sì. Che è un po' quella che mi ha sempre... È il tuo cavallo di battaglia. È il mio cavallo di battaglia. Sai cosa mi ha stupito? Sentivo qualche giorno fa una intervista a Lupi. Lupi ha parlato della politica come bene comune. Io ovviamente sono riso. Fossi stato lì tra il pubblico l'avrei deriso. Beh, ma guarda, io devo dire che qualche tempo fa ho sentito un funzionario di un'azienda della raccolta, dell'altezza urbana di un paese, che citava un verso del popolo indios, in cui diceva la terra noi la prendiamo in prestito dai nostri figli, per cui non ci appartiene, no? E lui che fa parte di un'azienda che ha sempre speculato sul territorio, non voglio dire quale, non voglio dire chi, appropriandosi di questo detto ha fatto bella figura. Però voglio dire, non è questo. Ha mascherato la realtà. Chiunque può dire qualsiasi cosa, no? Certo. E' il momento del tutto e il contrario di tutto, no? Diciamo che la retorica politica adesso viene adoperata da chi davvero denuncia la terra. Il bene comune bisognerebbe farsi chiaro, definirlo, no? Sì. Il problema è che le troppe regole è pari al fatto che non ci siano più regole, no? Sì. Vale tutto quel punto. Perfetto. E siamo a questo, no? Ognuno usa, come dire, come arma qualsiasi argomento, ma davvero come arma, no? Perché poi c'è, in qualche maniera, il significato che ognuno di noi dà alle cose come vuole, no? Secondo regole che ormai non si capisce dove vanno, no? Tu hai adesso due pub, cioè tu con altre persone, ovviamente, sono l'Eco & Eri Pub a Barivecchia, l'Eco & E, che è il primo, poi, di questi due eco & E, a Picone e Poggio Franco, che non sono dei semplici contenitori per il consumo, ma sono dei luoghi dove, come dire, l'esposizione di altri prodotti, quale può essere il prodotto musicale, come il prodotto librario, ma anche quello fotografico, delle mostre, tu ci racconterai cosa hai fatto con degli studenti di un liceo di Bari recentemente a Barivecchia, trovano la giusta dimensione, nel mio modo di vedere. Cioè la possibilità di essere esposti, ma di essere criticati, analizzati, essere anche sottoposti, come dire, allo spolpamento della critica da parte del pubblico, ma soprattutto durante quegli eventi può essere chiesto ai produttori, e quindi agli artisti, ai creativi, chiamiamoli un po' come vogliamo, a un interrogatore, cioè come arrivano poi a fare quell'oggetto lì, perché tu stesso sei uno che lavora sugli oggetti, non va dimenticato che sia uno scultore. Senti, io vorrei dire che questa esperienza dell'Ecoene, questo progetto fatto con 16 persone, che in realtà vuole aprire una finestra, affacciarsi sul mondo di un'imprenditoria diversa, nel senso che il soggetto principe è la risorsa, la risorsa è la conoscenza di un lavoro, che poi a quel punto è stato distribuito tra 16 persone che hanno fatto un'attività, dove non c'è il titolare che guadagna, ma c'è una distribuzione equa di un compenso, di un utile. Tutti quanti con lo stesso diritto e a parità di possibilità. Poi è chiaro che è un progetto complesso, perché non è facile. In un sistema fiscale che pone mille regole, che non favorisce l'impresa collettiva, non può dire che sono sbagliate, perché sei tu che da creativo stai ponendo altre domande, alla quale uno Stato, chiuso in un recinto, un sistema, non può darti delle risposte, perché prima deve capire, deve capire poi come, darti quella risposta per non rimanere incastrato, per come dobbiamo venire. Ti faccio un esempio, sono stato recentemente a un dibattito con l'assessore Elena Gentile, che promuoveva questo piano per il lavoro, le veniva obiettato questo da un insegnante di una scuola, di un asilo nido, di una scuola elementare, diceva lei, l'insegnante, noi abbiamo occupato sei persone diversamente abili, le abbiamo formate con tirocini formativi, però, purtroppo, il piano per il lavoro della Regione Puglia non fa sì che le istituzioni pubbliche, nel suo caso una scuola pubblica, possa ricevere finanziamenti per continuare a occupare queste persone che abbiamo formato. La risposta, come dire, dell'assessore è stata purtroppo ci rendiamo conto adesso, in corso d'opera, di aver commesso un tragico errore. Beh, intanto in corso d'opera ti accorgi sempre che ci sono degli errori, perché quello che si dice, quello che si scrive è un conto, quello che poi incontra nella pratica, nel quotidiano, è il disastro, è un'altra cosa. E poi magari nel recinto delle regole rigide è difficile rimodulare, devi buttare giù tutto e devi rifare, cosa che si potrebbe auspicare per questo Stato, per questo sistema, buttare giù tutto e rifare. Ma magari. È tutto da rifare, in realtà. Allora diciamo che non c'è, non ci sono più regole che in qualche maniera aprono la strada a delle istruzioni diverse, non esistono queste cose qua. Esiste questa regola, si fa così, buttiamo a mare tutto, il lavoro non c'è alla fin fine, no? Non c'è una ricetta. Non è che non c'è una ricetta, non c'è la creatività politica, non c'è la dimensione di lasciarsi delle vie di fuga dalle cose, no? Perché in realtà siamo tutti quanti, ognuno nella propria scatola, siamo incasellati. Perché manca anche la contaminazione tra le diverse scatole. E allora, fin fine, io qua, voglio dire, dico soltanto il nome di Ivan Illich, no? Sì. Che è uno che ha sempre detto, come dire, di rimanere al di fuori, di alcuni contesti che costruiscono dei recinti pericolosi, no? Noi adesso ci siamo tutti nei recinti pericolosi, allora puoi essere la persona più lungimirante di questo mondo, in questo momento, che può stare alla Regione Puglia, all'Emilia Romagna, dove vuoi, però poi sei costretto da regole che non funzionano. Che sono recinti blindati. Che sono recinti blindati. Ma perché sono recinti blindati? Non sono costruiti casualmente questi recinti, no? Per esempio, tornando al discorso del pub, del locale, il pub, da un punto di vista igienico-sanitario, da un punto di vista di vincolo con le autorizzazioni, svolge una funzione, no? Ma nessuno dice che può essere centro ludico, che può essere scuola, che può essere dopo scuola, che può essere qualsiasi cosa, no? Solo che le regole non te lo permettono, no? Allora ecco, c'è in qualche maniera la volontà di chiudere tutti quanti nel recinto perché poi ti devo controllare, no? Sì. Allora, quando io parlo degli spazi di un locale, per esempio, dico se tu togli la porta è la continua di una strada, no? Quando tu hai messo la porta è lo spazio dove io vengo e ti controllo perché ho definito il tuo spazio, no? Questo è quello che dovremmo cominciare a evitare, no? Ecco perché i creativi, i musicisti, gli artisti sono comunque lungimiranti, perché mentalmente gli scrittori vanno oltre questi spazi, no? Ora è chiaro che la gente molto non riesce a... Pagando anche sulla propria pelle, dove per pelle all'interno soltanto rimettendoci la vita, come può accadere in situazioni, come dire, dittatoriali o in luoghi dove c'è chi si accanisce violentamente e ferocemente, ma rimettendoci la vita nel senso di rimettendoci i guadagni. Una riflessione che faccio sempre con gli autori, questa è una trasmissione frequentata da bravi autori che pubblicano con piccole case editrici, è questa. È allucinante il fatto che in Italia la distribuzione, cioè poche teste e gli editori, i grossi editor, che determinano in qualche misura le preferenze del mercato, stia massacrando la buona scrittura. Ma questo è inevitabile, questo è il meccanismo, questo sistema è così, noi ci siamo detti un sacco di volte, questo sistema è costruito per determinare tanti collassi, perché poi sul collasso si regge il prodotto interno lordo, perché si fanno soldi su queste cose. Per cui diciamo che in realtà l'idea sarebbe quella di sprigionare, d'accordo? Cosa che io dico ormai da 15 anni, da quando sto nel mondo dei locali, dico ai ragazzi, sprigionate la creatività, perché in realtà la creatività è come il vento, non riesci più a definirla, per cui apri le idee, spazi, e poi peggio per chi mette le regole, che non sa dove andare a prendere la scatola per chiudere il vento. Abbiamo dimostrato negli anni passati, quando Bari, prima della primavera pugliese, dell'onda emiliano, in realtà ha costituito un momento di creatività politica, ma anche sociale, che è stato un bel momento, che poi ha dato la possibilità a determinate persone di prendere il potere in questa regione. Purtroppo alcuni eventi sono stati dimenticati, se io penso alla mia formazione politica, devo pensare necessariamente al gabbiotto di lettere, al centro sociale. Certo, voglio dire, oggi, stranamente, in un momento in cui ci sono governi vicini a noi, questo non è avvenuto, è come se si è spenta la creatività, è come se è stata incanalata, è diventato un meccanismo per che qualcuno potesse gestire o dare delle regole, è come se tu dicessi al pensiero che devi avere delle regole per pensare, non è possibile. È quello che avviene quando c'è la gestione dei flussi di denaro. Allora l'idea sarebbe stata quella di avere sempre luoghi, piccoli o grandi che siano, che erano un fermento, ma le regole sono ormai dei legami pericolosi. Guardo anche alla Siae, oggi.